Ciao ragazzi sono Arcox2 e oggi siamo qui tornati in un nuovo video Oggi ragazzi siamo tornati finalmente dopo tanto tempo sulla squadra delle leggende Ragazzi allora l'altra volta avevamo fatto Roberto Carlos E veramente quel video era veramente leggendario Quindi mi raccomando andatevi a vedere pure quello là di Maldine, di Nesta e di Smychle E oggi ragazzi visto che noi oggi vogliamo completare la difesa la finiamo con Cannavaro Quindi ragazzi Cannavaro forse vi è venuto in mente per questo Quindi ragazzi adesso cominciamo subito Bujol e Cannavaro Grande sfida Real Madrid Barcellona Ciavi, Iniesta, lì c'era un pazzesco, lì è chiesto Messi c'era, secondo me c'era Messi Sì Messi c'era Sì Messi c'era Sì Messi c'era Ehm Cannavaro però qua va tupando secondo me Ancora Cannavaro, come passa ancora Cannavaro sta passando in lì sta sempre in lì però Cannavaro era un po' falloso sugli attaccanti si era un po' falloso c'era pure Roberto Carlos quindi era compagno di Cannavaro Roberto Carlos eccolo qua bravo Cannavaro che ruba il pallone anche su Ronaldinho beh e anticipa pure Messi e Deco Deco leggenda veramente raga ci sarà insieme ve lo dico ci sarà insieme a lui Costa nei centrocampisti no guarda il pallone cannavaro ancora oddio Messi grande skill Messi cannavaro ancora lui lo spazza via Messi ancora Messi grande skill Messi occhio e poi Cannavaro ancora bravissima Cannavaro vediamo ma era Roberto Carlos o Cannavaro? che tu vuoi una raga nuova non era più cannavaro ancora bravissima attaccava proprio più il bacio e la cellulina perché non attaccavo più il bacio e la cellulina guarda il marito proprio non dicevo prima bravo grande skill bravo 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 ha fatto pure la capriola però ha fatto fallo cannavaro ha fatto fallo cannavaro vediamo vabbè vediamo qua raga ora comincia ah questo era nel mondo 2010 il sudabile il sudabile non deve essere ovviamente è il sudabile uaah che è bello che si può fare wow smarca di danno vabbè qua vabbè ora è di Italia è pure il capitano dell'Italia su Tierni è di Italia è di Italia su Tierni è di Italia è di Italia è di Italia si è di Italia per noi si si vede davvero anche se sevchenko pure suezieni vabbè del gano Qua già l'abbiamo visto Qua già l'abbiamo visto Quindi ragazzi Il video finisce qua mi raccomando Iscrivetevi al canale GiustoGamer06, MattiaGamer88 Niccolò Papadia Tonio07youtube Donny07rega Insieme a GastroTorome Che fanno parte degli atomici 015 mi raccomando Iscrivetevi al loro canale Per farli arrivare almeno 40 iscritti Quindi poi iscrivetevi pure Al canale Bomb360 E Federico Donofrio E pure di Niccolò Papadia se non l'ho detto Quindi da MarcoVox2 è tutto Un abbraccione da MarcoVox2 Iscrivetevi anche al mio canale Pena campioni